Penultimo allenamento dell'anno e doppia seduta per l'Udinese che anche in questa mattina e pomeriggio ha lavorato sui manti del centro sportivo di Nobruseschi. Una mattinata prettamente dedicato a quello che è stato il lavoro atletico per poi tornare sui campi dove si è rivisto in gruppo anche Stipe Perizza, l'attaccante croato, che è tornato a lavorare insieme al resto della truppa così come tutti i vari elementi che sono riaggregati, anche quelli che hanno fatto viaggi più importanti per le soste natalizie, sono tornati tutti a disposizione con Stipe in particolare che nelle passate ore aveva svolto allenamento differenziato e che invece adesso torna a disposizione in allenamento differenziato invece con il consueto programmato Cyril Theroux e anche Panagiotis con squadra che ha lavorato divisa in due campi, sul campo numero uno insieme ai preparatori, un gruppetto con il Torello e poi anche i portieri che come al solito impegnati dai precisi tiri di coach Brunner si sono disimpegnati, il tridente composto da Meret, da Romo e da Carnezis insieme che si sono disimpegnati con tutta questa serie di esercizi. Sul campo numero due invece in alternanza tra il gruppo appunto che svolgeva il Torello e l'altro gruppo presente sul campo principale diretto da mister Colantuono si è lavorato molto sulla tattica ovviamente con vista su quella che è una formazione che il tecnico conosce molto bene come quella bergamasca, si è lavorato molto su quello che si vedrà nel corso dell'Epifania anche perché domani è prevista quella che è l'ultima seduta di allenamento, una seduta mattutina prima di tutti i liberi della tranquillità per le festività di Capodanno, qualche ora di relax visto che anche per il primo gennaio è previsto il riposo per i ragazzi bianconeri per poi tornare con grande intensità a partire dal 2 di gennaio, un lavoro mirato a quelle che saranno le due gare ravvicinate del 6 e del 9 con tanti elementi che vogliono mettersi in mostra, lo hanno fatto anche nel corso di questi Torelli in cui c'è stato come sempre anche qualche sfottò, qualche momento molto divertente, anche qualche flessione perché chi perde deve pagare penitenza anche se siamo in clima di festività natalizio, c'è anche questo peso da scontare.